Un vertice di carattere tecnico per verificare eventuali criticità e soprattutto emergenze sul fronte dell'approvvigionamento idrico in Sicilia è stato convocato nelle ultime ore dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci per mercoledì pomeriggio alle ore 18 a Palermo. La crisi idrica che allarma le regioni del nord Italia, spiega il governatore dell'isola, per fortuna non presenta gli stessi valori in Sicilia. Tuttavia dobbiamo essere pronti a qualunque evenienza. Quello che abbiamo fatto in questi cinque anni per far fronte alla penurea d'acqua nei centri urbani e nelle campagne non ha precedenti in termini di iniziative e di risorse stanziate. All'incontro parteciperanno i direttori dei dipartimenti regionali dell'ambiente, dell'agricoltura e dell'acqua e dei rifiuti, il segretario generale dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, i vertici dei due consorsi di bonifica, il direttore della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico e il capo della protezione civile regionale.